Vediamo insieme una scheda di quiz ministeriali per la patente B attraverso la nostra applicazione gratuita Guida con me che troverete linkata sotto il video. Se vi sarà piaciuto il video mettete un mi piace, registratevi al canale se volete essere informati di ogni nuovo caricamento e soprattutto se avete qualche dubbio su dei quiz esaminati in questo video scrivete un post e noi vi risponderemo. I motocicli possono essere dotati di cambio automatico. La risposta corretta è vero. Il segnale raffigurato può preannunciare la presenza di una scuola frequentata da bambini nelle vicinanze e quindi bisognerà essere particolarmente prudenti. La risposta corretta è vero. In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito alle innaffiatrici stradali. Beh, certo, si tratta di un diveto di transito per veicoli che trasportano merci, sostanze che potrebbero contaminare l'acqua. Quindi in naffiatrici stradali per la pulizia della strada non c'entrano assolutamente nulla. La risposta corretta è vero. Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza dell'inizio di un percorso ciclabile accanto ad un percorso pedonale. La risposta corretta è vero. Il segnale raffigurato può essere ripetuto in formato piccolo prima e dopo ogni incrocio. Si tratta di un diritto di precedenza. Strada con diritto di precedenza. La risposta corretta è vero. Il segnale raffigurato preannuncia che si incrocia sulla sinistra una strada di minore importanza dalla quale dobbiamo avere la precedenza. La risposta corretta è vero. La segnaletica in figura obbliga i conducenti a fermarsi e dare la precedenza ai pedoni che si accingono ad attraversare. La risposta corretta è vero. Quando il vigile si dispone con le braccia aperte verso la nostra direzione come in figura, si può svoltare ma non proseguire diritto. Questo vigile equivale al semaforo rosso, quindi non si può andare in nessuna direzione. La risposta corretta è falso. Il segnale raffigurato vieta la sosta. Il segnale raffigurato indica una strada senza uscita. Non c'entra nulla con il divieto di sosta. Quindi la risposta corretta è falso. Il delineatore raffigurato è posto in un incrocio dove non è possibile proseguire diritto. Infatti indica che la strada ha un andamento solo o verso destra o verso sinistra. La risposta corretta è vero. Il pannello integrativo in figura può essere abbinato ad un segnale di obbligo. Con una eccezione per gli autobus, ovviamente. La risposta corretta è vero. La velocità deve essere particolarmente moderata subito dopo il tramonto del sole. Non c'entra nulla con il tramonto del sole. Quindi la risposta corretta è falso. Lo spazio totale di arresto dipende dalla velocità. La risposta corretta è vero. La distanza di sicurezza è commisurata anche al limite di velocità riportato sul retro del veicolo che ci precede. In realtà la velocità riportata sul retro del veicolo che ci precede indica la massima velocità a cui può procedere quel veicolo. Quindi la distanza di sicurezza nostra non c'entra con i limiti di velocità del veicolo che ci precede. La risposta corretta è falso. Su strada a doppio senso di marcia, con due corsie, come in figura, i veicoli che percorrono il tratto in salita di un dosso devono tenersi il più possibile vicino al margine destra della carreggiata. La risposta corretta è vero. Lo specchio retrovisore laterale sinistro deve essere regolato in modo da scorgere nel suo terzo di destra la coda del veicolo. La risposta corretta è vero. Nell'incrocio rappresentato nella figura il veicolo R passa per primo, avendo, aggiungiamo, la destra libera. La risposta corretta è vero. È consentito il sorpasso di veicoli in lento movimento e in passaggio a livello senza barriere se il treno è distante. Non si può limitarsi a vicenda alla visibilità in un passaggio a livello senza barriere, quindi la risposta corretta è falso. Fuori dai centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento è consentita la sosta in prossimità dei dossi. La risposta corretta è falso. Il segnale mobile triangolare di pericolo deve essere posto sul carico accidentalmente caduto sulla carreggiata. Invece deve essere posto alla distanza di 50 metri sulle strade extraurbane o di 100 metri sulle strade extraurbane principali rispetto al carico caduto. La risposta corretta è quindi falso. Quando il gancio di traino non viene utilizzato perché non si sta trenando un rimorchio, la sua parte sporgente dalla sagoma posteriore del veicolo deve essere sfilata, smontata o ripiegata. La risposta corretta è vero. L'uso dei proiettori a luce abbagliante è necessario di giorno se si circola su un'autostrada viaggiando contro sole. La risposta corretta è falso. I guanti ad uso motociclistico possono essere sostituiti dai guanti da sci ma solo nella stagione fredda. Ovviamente la risposta corretta è falso. La patente di guida viene immediatamente ritirata durante la circolazione se a seguito di incidente sono derivate lesioni a persona. A persone. La risposta corretta è vero. Il pannello in figura obbliga a tornare indietro all'imbocco della galleria. Indica in realtà le vie di fuga in caso di incendio. La risposta corretta è falso. In presenza di un ferito in stato di sciocco occorre farlo camminare per riattivargli la circolazione del sangue. La risposta corretta è falso perché va sdraiato a terra. Un conducente che ha assunto una quantità eccessiva di bevande alcoliche può recuperare velocemente l'idoneità alla guida se assume cibi piuttosto salati. Naturalmente il quiz è nettamente falso. Chi è penalmente civilmente responsabile di un sinistro stradale è tenuto al risarcimento dei danni. La risposta corretta è vero. L'inquinamento dell'aria prodotto dai veicoli a motore può diminuire se si aumentano i bagagli sul tetto dell'autovettura. Ma i bagagli sul tetto dell'autovettura producono maggior attrito e quindi maggior consumo di carburante e quindi maggior inquinamento. Quindi la risposta corretta è falso. La pressione di gonfiaggio dei pneumatici deve essere controllata quando la gomma è fredda. Certo perché altrimenti risulta naturalmente non esatta in quanto l'aria all'interno si sarà surriscaldata per il rotolamento del pneumatico e quindi la pressione sarà più alta di quella normale. Bisogna aspettare che l'aria si raffreddi. La risposta corretta è vero. Abbiamo superato col 100% delle risposte vere l'esame. Possiamo controllare tutte le risposte nell'elenco qua sotto oppure anche una ad una rivedendo un quiz per volta. Con ciò noi vi diamo appuntamento alla prossima scheda d'esame e vi auguriamo un buono studio.